Andremo a controllare casa per casa e verificheremo quali sono e chi sono gli effettivi residenti. Questa è un'operazione che abbiamo già fatto anche in altre situazioni e in altre zone di Treviso che hanno dato buoni frutti, parlo ad esempio di via Bindoni, per cui ripeto il controllo sarà capillare in tutte le abitazioni. Questo è il piano della Polizia Locale di Treviso a seguito della sparatoria di Borgo Capriolo, fatti che hanno riacceso i riflettori su questo angolo di città già sorvegliato speciale. Accanto a questura i carabinieri si prenderanno in esame anche eventuali carichi pendenti. Controlleremo sicuramente anche la fedina penale di tutti quelli che sono presenti in queste case e verificheremo che chi occupa le case popolari ne abbia titolo. Tra l'altro proprio Borgo Capriolo già rientrava in un maxiprogetto di videosorveglianza che vista la situazione sarà accelerato. Abbiamo inserito Borgo Capriolo nel piano ministeriale a cui abbiamo chiesto un finanziamento e qualora non arrivasse nel giro di poche settimane il finanziamento partiremo con fondi propri. Quindi attiveremo delle telecamere nel giro di alcune settimane in quella zona lì, anche con il monitoraggio delle auto, quindi con dei lettori target. E di videosorveglianza ma non solo si parlerà in occasione del vertice settimanale in prefettura, qui parteciperà il sindaco Conte. Per il prefetto l'attenzione dopo le scene da Far West in Santa Bona va tenuta alta per evitare un effetto domino, leggi, vendette e ritorsioni. Sarà anche l'occasione per parlare appunto di questa vicenda e vedremo quali sinergie mettere in campo e che tipi di controllo eventualmente attivare in quella zona tenendo conto appunto di quelle che sono le criticità e anche del clima in cui è maturata questo fatto che potrebbe anche come dire essere foriero di altri fatti e quindi bisogna stare attenti e tenere alta l'attenzione. Grazie a tutti.